C'è un po' di tutto, c'è quel misto che accompagna la vigilia di qualcosa di importante, perché non dimentichiamo che comunque per tanti giocatori, se non la prima esperienza in Serie A, poco ci manca, dentro la squadra non abbiamo tutta questa Serie A anni, e quindi il nuovo inizio è sempre visto con quel misto di curiosità, entusiasmo, incertezza, che si mischiano insieme e che esploderà solo domani sera alle 20.45. Ciao inizio, buon pomeriggio, vi chiedo chi non sarà a disposizione domani per la partita con l'Empoli, grazie. Di sicuro adesso, e che dobbiamo ancora fare la rifinitura, di sicuro non avremo a disposizione Covalenco, che pensavo che avrei potuto portare almeno in panchina, ma in questa rincorsa alla migliore condizione i carichi di lavoro sono stati abbastanza grandi per lui, e quindi è un piccolo affaticamento, ce lo terrà fuori qualche giorno e preferiamo rivederlo la settimana prossima con un po' più calma, senza rischiare. Poi ci saranno da valutare come la settimana scorsa le ultime ore del mercato, vedremo in itinere quello che succede. Buonasera mister, la prima partita è sempre la più bella, ma anche la più difficile, sempre, quindi la Coppa Italia è archiviata, campionata è un'altra cosa, l'Empoli viene da una sconfitta immeritata e probabilmente non prevista, i rischi di questa partita e anche i rischi della prima in casa. Guardi, ho imparato nel tempo che la partita più difficile è sempre la prossima, qualsiasi, all'inizio, a metà, alla fine, la partita più difficile è sempre la prossima. In Serie A lo sappiamo che non ci sono partite facili, le partite facili sono quelle che sono finite e che hai vinto, altrimenti le partite facili non esistono. Ci troviamo ad affrontare un avversario che ha delle analogie con noi, perché l'Empoli, come noi, è un piccolo club, entrambi sono reduci dalla Serie A, pur con filosofie diverse, con una costruzione di squadra improntata diversamente, e quindi le caratteristiche proprio anche dei giocatori non sono uguali. Però ci sono delle analogie, intanto il target di tutti e due, che è l'obiettivo chiarissimo della salvezza. Nel nostro caso, questa prima partita di domani sera anticipa un calendario sulla carta molto, molto difficile e quindi allora, se uno fa un ragionamento speculativo, dice, assume ancora più importanza la partita di domani sera, però abbiamo imparato nel tempo che una partita alla volta, domani è la prima di 38, anzi, probabilmente il modo giusto di ragionare quest'anno in virtù del calendario è ragionare la prima di 15. Salve mister, io volevo chiederle un giudizio sui nuovi arrivati, su come si sono ambientati, se appunto li ritiene pronti per la prima di campionato o ci sarà ancora del lavoro da fare con questi giocatori, diciamo? Per una serie di questioni che sono molto diverse tra loro, Caldara è a disposizione completamente, è un difensore molto strutturato fisicamente, di quelli che il 14 di agosto ancora necessariamente non sono al 100% della condizione e però c'è la voglia e la necessità di mettere, prima possibile portarlo verso il suo stato ottimale. Egdal è reduce da quattro mesi di un infortunio che ne ha condizionato enormemente l'utilizzo nello scorso campionato, è partito molto in ritardo, io confido di portarlo in panchina e se ne avrò la possibilità di fargli anche qualche minuto, insomma però più di questo è difficile da pensare in questo momento. e Kovalenko abbiamo detto, in settimana abbiamo avuto questo nuovo ingresso di Drongoski, forse per semplicità fra di noi, chiamarlo Drongoski per tutto l'anno ci aiuterà, bravo, diciamo così, bravo. che essendo, allenandosi da solo, ritenevo più indietro dal punto di vista fisico, invece la sensazione è quella di averlo trovato piuttosto bene. Quindi potrebbe giocare lui? Di sicuro, questa è un'eventualità a cui sto pensando e anche l'allenamento di oggi mi dice delle cose. Hai parlato di partenze, ormai penso che è maggiore, non so se è già partito oggi o comunque probabilmente non lo avrai, questo me lo dici tu, ti aspetti un sostituto? La società si sta muovendo perché succeda questa cosa, però nell'ottica di non mettere il carro davanti a voi, vediamo quello che succede dal mercato. Mi piace sottolineare che comunque dopo la vicenda della settimana scorsa e le discussioni proprio nell'immediata vigilia della partita, questa settimana invece il ragazzo l'ha affrontata con grande professionalità, con quell'idea di giocare al massimo delle sue possibilità, ogni giorno di allenarsi al massimo delle sue possibilità e di mettersi a disposizione della squadra. Forse ti faccio una domanda scomoda, però te la faccio lo stesso. Hai pensato comunque di poterlo convincere a restare, dandogli l'importanza che meritava? Nelle amiche loro gli hai sempre dato la fascia, l'hai sempre fatto giocare. Cioè hai provato comunque a fargli capire che era importante nella tua rosa? Io ho cercato la direzione che mi sembrava più logica. e però di sicuro non mi metto in mezzo a questioni che riguardano il rapporto fra il calciatore e il club. Quindi cerco di essere una variabile di supporto e di aiuto e non di contrasto. Mister, in una delle ultime conferenze aveva ribadito la necessità che la rosa venisse completata diciamo di qua alla fine del campionato potendo avere a disposizione almeno due ruoli, due giocatori per ogni ruolo. Alla luce delle ultime settimane di lavoro e quindi potendo valutare anche meglio i vari giovani che sono arrivati tutti chiaramente agli esordi parlo di Holm, Colbig eccetera. Pensi che comunque rimanga la necessità in alcuni ruoli chiave di avere almeno un sostituto prima della fine del mercato? Sì, però è una cosa condivisa con il club il club la pensa come me poi che ci sia la possibilità reale di fare le cose che abbiamo in mente è più complicato e non è scontato però il club la pensa come me. Marco e altre? Ok, va bene. Da un punto di vista tattico hai parlato di due squadre diverse, no? Spezia e Empoli magari anche come struttura di squadra come mentalità di gioco forse non lo so ecco, cosa ti preoccupa dal punto di vista tattico se hai qualche preoccupazione nei confronti dell'Empoli? Ce ne sono ci sono le preoccupazioni lecite io so che l'Empoli ci metterà in difficoltà in certe zone del campo così come so che noi probabilmente abbiamo la stessa possibilità di fare questa cosa con loro il tutto avviene con due allenatori nuovi nelle rispettive panchine che uno lavora nel solco di una tradizione di un sistema di gioco che i giocatori conoscono e che lui stesso conosce e dall'altra parte io che ho deciso di prendere una direzione diversa e di cambiare diverse cose quindi poi quegli aspetti che dicevamo prima relativi alle sensazioni della vigilia si acuiscono anche di verificare come sta andando il processo e anche qui